Cappiatini! C'è il pranzo! Cappiatini! E qua arriva... Ma cosa sbagliate Guain? Cosa sbagliate Guain? Porta vuota! Neanche Gieco ragazzi! Neanche Gieco! Vabbè! Rimaniamo sull'1-0! Incredibile! Che erroraccio di Guain! Spaccate il like! 100.000 mi piace per tatino! Raga, passate da Instagram! Sì! Se avete bisogno di crediti passate dal link di iscrizione! Se mettete il mio codice coupon avrete un piccolo sconto! Bella! Bella ragazzi e bentornati sul mio canale! Siamo qui oggi con questo nuovo super video della carriera YouTube Italia! Allora! Finalmente siamo tornati! Era da circa due settimane che non registravo perché tutti i video che avete visto sono stati registrati prima delle fiere Romics e Torino Comics! Comunque vi invito a passare qui sotto nella descrizione perché trovate il link di Telegram ho creato il gruppo Telegram! In più ragazzi se volete seguirmi su Periscope! Se volete seguirmi su Instagram trovate tutti i link qui sotto nella descrizione! Comunque! Siamo tornati a noi! Torniamo più carichi che mai! Allora! Terzino destro! Mi avete detto Gabbo! Non va bene anche perché Gabbo voi lo vedete più come un attaccante! Quindi! Andiamo a mettere Camper degli Enub dove cavolo è! Comunque! Andiamo avanti! Questa volta si gioca contro la Fiorentina! Ovviamente qua il tecnico ci mette già fuori di Gigno perché è ancora infortunato! Quindi ci mette Zappinio, Mike Shosh e Stepney poi Ron, Anima, Dexter Surry, Tatinio Joker, Camper e Brazzo però siccome anche le fiere mi avete detto Tati ma fai giocare Sodin Tati ma fai giocare un po' anche gli altri youtuber adesso ne mettiamo anche Sodin, Surry si riposa un po' visto che è stanco delle fiere delle fiere, delle fiere delle fiere poi mettiamo anche vediamo un po' chi mettere ok diciamo che così va bene ho solo tolto praticamente Ron ho messo Erna Anima Dexter Step Mike Zappinio Sodin Tatinio Joker Camper e Brazzo Allora andiamo subito a giocarci questa partita contro la Fiorentina non sarà semplice ragazzi ok ragazzi siamo tornati dal Franchi contro YouTube Italia vediamo un po' dobbiamo vincere tra tanto che non vinciamo tra tanto che non giochiamo si parte sembra il cavallero la larga attenzione Jacovenco 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 in mezzo che dischio Joachim Valacross in mezzo attenzione Brazzo dove sei Jacovenco Valacross Brazzo eccolo attenzione Borcavalero attenzione uno di due Borcavalero ancora Brazzo Brazzo attenzione Alacross in mezzo Brazzo che parata ancora oddio non ci credo l'aveva presa Dexter ma Brazzo che parata sta facendo era dentro nettissimo però da apprezzare Dexter che cosa aveva fatto anche Brazzo sta facendo le riparate pazzesche vabbè 1-0 dobbiamo recuperare non tolgolare Babacar la terza gamma è fuori gioco Babacar oddio sembrava un gol cosa è successo cosa vuole l'arbitro cosa sta succedendo giallo a chi perché non ho capito a chi ha monito a Sodin perché no no c'è Brazzo tanto c'è Brazzo c'è pazzesco per ora è lui l'uomo partita Sky mamma mia tanto questi sono gli altri risultati ma un super Brazzo ragazzi davvero pazzesco un po' di cambi raga Wax sbucci e Dread dentro dai vediamo se cambierà la partita sbucci allarga per anima attenzione anima è partito velocità anima è velocissimo anima in fascia anima in mezzo c'è qualcuno anima 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 vale cross in mezzo e qua rischia l'autogol la Fiorentina però attenzione Dread la recupera subito contropiede o Axel attenzione anima anima recupera anima attenzione anima 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 l'allarga per sbucci ma sbaglia più che altri la intercetta bella questa chiusura step recupera step step è carico step ce l'ha sul destro step chiuso ma recupera se non ancora step step si ferma balla cross ma sbaglia attenzione Jacovenco broncai ancora step recupera step con un numero step entra in aria step step porta il tiro traversa incredibile sbucci l'allarga ancora per Axel 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 l'allarga per Zapinio 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 e l'1-1 Zapinio l'ha messa dentro proprio lui 1-1 riporta le cose a posto che azione dei youtubers 1-1 al stadium i mates si intendono Zapinio subito a cercare o Axel è tutto solo o Axel o Axel o Axel o Axel polo col 2-1 youtubers 2-1 youtubers l'ha messa dentro potente a pala ragazzi 2-1 2-1 2-1 che azione di youtubers si sono svegliati finalmente Joaquin bello Axel la gira per Zapinio subito per sbucci sbucci l'allarga ancora per Axel è in forma o Axel o Axel entra in aria o Axel la gira indietro per anima anima subito ancora indietro per step step ce l'ha sul destro allora gilberto un minuto di recupero palla però che torna i youtubers o Axel l'allarga ancora per anima ma finisce qua game over game over game over al franchi youtubers battono fiorettina 2-1 che partita ragazzi che partita ragazzi che statistiche che partita uomo partita sky direi brazzo infatti uomo partita sky brazzo con 9.2 una partita pazzesca di brazzo poi anche Axel è entrato ha fatto il panico ma brazzo ragazzi che parate è il milan che ha perso 2-0 fuori casa adesso c'è il napoli adesso c'è il napoli vediamo un po' come andremo a napoli ok ragazzi siamo al san paolo sono anche un po' senza voce perché arrivo da poco dal torino comics ragazzi un giorno dopo praticamente sono senza voce però esperienza fantastica siamo al napoli siamo al san paolo napoli youtubers vediamo un po' come finirà questa super partita dobbiamo assolutamente vincere per continuare la nostra scalata attenzione al caduri chiuso il caduri da murri murri riparte murri allarga per just ron 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 parte il tiro ron non va di giro 1 a 0 youtubers anima subito per dexter 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 con un numero dexter ancora dexter dexter partagiro dexter reina sono al cross in mezzo brazzo tutte sue sono brazzo subito a cercare ron lo trova molto bene con le mani allora ron se ne va in velocità ron 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 lancio lungo a cercare zappigno perché è tutto regolare zappigno 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 con un numero tesona kiriches tutto regolare kiriches lancio lungo eccolo dexter subito di prima per ron ron in velocità ron numero di ron 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 ce l'ha sul mancino ron lo prova che erroraccio anima subito per dexter bella questa palla dexter controlla seguire dexter dexter con un numero dexter dexter porta a giro che gol che gol che gol di dexter 1 a 0 che gol grandissimo gol e finisce qua primo tempo 1 a 0 youtuber sul golasso di dexter che gola ragazzi davvero un golasso si va al secondo tempo spacca del like si riparte dall'1 a 0 senza cambi vai dexter con un numero 2 3 se li fa fuori tutti dexter 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 potrebbe riprovarlo no amsik l'ha chiuso zuniga è inarrestabile corre come un treno zuniga zuniga però chiuso da giocherigno però ancora zuniga va al cross in mezzo diventa un tiro ma brazzo la fa sua dubito di prima per dexter tutto regolare dexter 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 parte ci posso credere l'ho sbagliato incredibile ancora l'azione come l'azione di prima dexter 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 con un numero rientra dexter indietro step non va attenzione guain tutto regolare gabbiatini 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 c'è il brazzo gabbiatini e qua arriva ma cosa ha sbagliato guain cosa ha sbagliato guain porta vuota neanche gecko ragazzi neanche gecko vabbè rimaniamo sull'1-0 incredibile che roraccio di guain ancora amsic perde palla su step allora dexter 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 lo prova non va ecco i cambi gabbo zector e ciccio gamer fuori dexter zappigno e joker miga ancora per amsic la può largare perché c'è tutto solo de guzman de guzman de guzman de guzman anche lui come guain la spara in alto c'è l'insigne l'insigne in trenaria l'insigne si ferma ancora insigne su camper che lo chiude attenzione a step perché sbaglio attenzione a de guzman arriva l'1-1 gabbo numero gabbo gabbo in trenaria gabbo gabbo valle cross in mezzo attenzione non c'è nessuno non c'è credibile attenzione perché la palla è rimasta lì attenzione insigne insigne e brazzo qua evita il 2-1 ronne poi finisce qua game over al san paolo finisce 1-1 poteva andare peggio poteva andare meglio però è finita 1-1 partita epica partita epica come le carte epiche di clash royale partita epica ragazzi partita epica perché potevamo vincere come potevamo perdere uomo partita sky dire sempre brazzo perché è infatti brazzo più 8.2 incredibile è l'uomo partita sky di questa partita di questo episodio è l'uomo partita di questo episodio ragazzi l'uomo copertina è brazzo crew tanto 1-1 del frasi non ne va più allora facciamo allenare i nostri amici comunque per questo super episodio è tutto siamo arrivati a febbraio prossima partita contro la roma mi raccomando facciamo così consigliatemi intanto offerta per la nazionale noi non alleniamo nazionali consigliatemi qui sotto cosa migliorare di questa squadra nel senso chi mettere i titolari magari nel prossimo episodio e se volete continuiamo magari il giveaway ditemelo qui sotto nei commenti fatemelo sapere tutto qui sotto nei commenti spaccate il like iscrivetevi perché se no siete di game ho perduto il link che trovate qui sotto nella descrizione allora è tutto bello ciao